Lo vedete già dalla luce, da questa tossera un po' buia, da cui vi sto parlando, che anche su Milano ci sono delle piogge, ma sono poca cosa rispetto a quello che è accaduto e sta accadendo su Genova, sulla Liguria, sulla Toscana, dove ci sono stati dei veri e propri disastri, dove ci sono state anche varie vittime e mentre manifesto tutta la mia vicinanza agli amici della Liguria e della Toscana, devo sottolineare che in queste occasioni le autorità locali mi pare che abbiano un po' sottovalutato gli allarmi che venivano dalla protezione civile, mi sembra che non siano state adeguatamente informate, tempestivamente informate le popolazioni su quanto andava accadendo.